Grazie a chi ci ha coinvolto, grazie a una serie di contatti con la professoressa Testoni e grazie anche di averci ospitato con l'occasione a Venezia, che era tanto tempo che non vedevamo, noi romani siamo ben felici di aver sentito almeno un pochino dello spirito della città che ci ha accolto. Oltre a occuparmi di formazione di psicologi e di psicoterapeuti, ho avuto l'iniziativa qualche anno fa di fondare un'associazione che si chiama Lutto e Crescita, Grief and Growth perché avevo valutato la necessità di fare qualcosa per migliorare un po' la competenza e l'affrontare i temi del lutto e della morte nell'ambito della formazione degli psicologi e degli psicoterapeuti e anche offrire supporti specifici. Io mi occuperò delle parti più complesse, diciamo più generali della death competence e poi il collega Marco Dineri che lavora specificamente in un contesto di hospice e di cure domiciliari farà il collegamento con lo specifico. Questi sono i punti che cercheremo di toccare con una certa velocità introducendo un po' questo concetto di death competence che viene da questi autori statunitensi con degli aggiustamenti che noi abbiamo fatto sono appunto sempre persone che ruotano intorno all'ADEC di cui ci ha parlato stamattina la professoressa Capit e un collegamento tra death competence e death education che è un tema forte di questo convegno e poi alcuni spunti per la promozione e il monitoraggio di questa death competence così come l'abbiamo definita negli operatori e poi Marco Dineri farà dei collegamenti con il setting specifico. Gli studiosi che se ne sono occupati hanno cercato di definire quali sono le caratteristiche della competenza a lavorare con la morte e con il lutto che gli operatori del settore debbono sviluppare per lavorare in maniera adeguata in questo ambito. Naturalmente se ne è parlato moltissimo oggi, sono stati citati più volte una lista di competenze siamo tutti abituati a leggere una serie di cose però definirla death competence può servire ad aiutarci a focalizzare quali sono i punti chiave e vorrei anche precisare, parlavamo all'intervallo con la professoressa Capit del comune riferimento alla teoria dell'attaccamento che vorrei citare qua perché non ho scritto nulla sulle diapositive ma è lo sfondo di tutto il ragionamento cioè sappiamo che l'attaccamento è il sistema comportamentale che attiviamo nel momento del bisogno del pericolo e tanto più nella vicinanza della morte ora chi lavora con persone che hanno innestato il comportamento di attaccamento e la famiglia, quindi di solito il singolo tende a riferirsi alle sue figure di attaccamento ma in questi contesti la famiglia è colpita come dicevamo in tanti modi sistematicamente nel suo complesso come sistema quindi è chiaro che gli operatori diventano in parte transitoriamente figure di attaccamento quindi l'idea non è solo di parlare di quello che noi dovremmo essere così bravi da saper fare ma di come noi possiamo essere sostenuti nel fare questo perché non mi risulta che sia possibile attivare il sistema di accudimento che è la controparte del sistema di attaccamento senza un adeguato sostegno quindi il nostro obiettivo non è tanto quello di dire questo è l'elenco delle cose che ci dobbiamo sforzare di saper fare ma l'idea è dire se vogliamo accompagnare le persone in questo cammino noi cosa dobbiamo sviluppare e chi ci deve aiutare perché altrimenti il sistema di scatole cinesi del sostegno non funziona quindi sì partiamo da interrogarci sui nostri processi risolti più o meno completati rispetto al nostro occuparci della morte ma l'idea generale è quella di potenziare le proprie risorse e creare un sistema di supporto per chi lavora in quest'ambito sono partita da riesaminare il contributo di Camino e Ritter nel 2012 dove hanno presentato un testo sulla death competence che hanno definito come la specifica capacità di tollerare e gestire i problemi del cliente, del paziente relativi alla morte, al morire e al lutto e la ritengono un prerequisito necessario per una pratica etica cioè come per qualsiasi forma professionale possiamo praticarla eticamente solo se siamo formati anche in quest'ambito è necessaria una formazione specifica e è stato anche verificato che è anche necessaria perché l'intervento sia efficace perché molti cosiddetti fallimenti empatici e interventi inefficaci sono legati a una scarsa competenza specifica spesso in molti studi autovalutata cioè non giudicata dall'esterno i soggetti stessi, gli operatori dicevano non mi sento competente non credo di avere le risorse per un piccolo punto di connessione tra la death competence e la death education la death education è un ambito molto più ampio io mi riferisco ai testi, al testo recente della professoressa Testoni i contributi della professoressa Capit che secondo lo schema che ha portato avanti la professoressa Testoni si articola su tre livelli, lo nomino molto brevemente quella primaria, un'educazione, un richiamo al momento mori come ci diceva stamattina, la ricerca di senso e questo può essere rivolto anche alla scuola e alla popolazione generale a livello secondario si tratta invece di rimettere in piedi e rivivificare l'antica competenza che nelle generazioni precedenti c'era rispetto all'Arts moriendi e alla gestione del fine vita di cui ci occupiamo qua specificamente e a livello terziario invece lavorare sulla gestione della perdita la prevenzione del lutto complicato che poi è uno degli obiettivi specifici dei progetti della mia associazione e la promozione della resilienza e possibilmente della crescita post-traumatica e tutto questo lo possiamo vedere collegato con la death competence come su lì di lato perché trasversalmente si occupa cioè serve death competence per tutti e tre questi ambiti ora vediamo velocemente come l'hanno definita gli autori americani l'hanno definita in questo modo l'abbiamo detto prima, la capacità specifica di lavorare con questo e si articola in tre strati diciamo così una specie di torta annunziale lo strato matrimonio comba è una competenza cognitiva che è la roccia solida sulla quale si basa la competenza emotiva e insieme queste costituiscono la death competence ora cerchiamo di capire però che cosa si intende per competenza cognitiva e competenza emotiva io mentre ascoltavo tutti i colleghi e anche la lista che ci faceva vedere il collega subito prima di me analizzavo tutti e mi dicevo questo è questo pezzo questo è questo pezzo perché stanno tutte insieme e forse vediamo se è utile distinguerle la competenza cognitiva è la formazione professionale quindi svolta secondo i requisiti etici, deontologici, accademici è la specializzazione che viene richiesta e che viene fatta in maniera strutturale quando si fanno i corsi di tanatologia e quindi è sostanzialmente acquisire le cognizioni la letteratura, i dati di ricerca specifici la competenza emotiva invece ha a che fare con la capacità di tollerare emotivamente i temi caldi legati alla perdita e alla mortalità ci sono molti elenchi uno è quello di Norcross delle strategie di cura di sé che servono a mantenere un buon equilibrio personale nel fronteggiare questo tipo di lavoro e l'obiettivo è prevenire chiaramente sia il burnout sia la compassion fatigue cioè l'idea di potersi ritraumatizzare nell'accompagnare situazioni traumatiche e qui diciamo finisce la proposta questa è una nostra lettura che provavamo secondo noi la competenza emotiva non lo dicono gli autori originali è una nostra riflessione la possiamo leggere in termini non so, forse molti hanno familiarità col concetto di finestra di tolleranza introdotto molti anni fa da Daniel Siegel e cioè questa zona centrale quelle due strisce centrali all'interno delle quali noi siamo in un livello di arousal psicofisico nel quale riusciamo a pensare e a sentire contemporaneamente ed autoregolarci quando il nostro livello di arousal viene eccessivamente elevato e questo succede in risposta a una minaccia percepita a uno stressor molto forte tendiamo ad uscire dalla finestra di tolleranza o in alto o in basso se usciamo dalla finestra di tolleranza in alto abbiamo le difese primitive mediate dalla parte più antica del cervello che è l'iperarousal, attacco o fuga o il freezing qui vado molto veloce perché questo è solo un accenno e se invece abbiamo un tipo di difese di altro genere andiamo in ipoarousal e quindi abbiamo la morte simulata e potremmo fare delle connessioni tra i sintomi depressivi di appiattimento o tundimento quando usciamo dalla finestra di tolleranza dalla parte bassa e quella in alto invece abbiamo attacco, fuga ansia elevata eccetera eccetera quindi in pratica non solo i pazienti ma anche noi quando parliamo di competenza emotiva all'interno della dead competence dovremmo riuscire a rimanere nella finestra di tolleranza o rientrarci più velocemente possibile quando il nostro livello di arousal sale quindi abbiamo pensato di ridefinire un po' questa dead competence in questo modo ci abbiamo aggiunto competenza esistenziale come una specie di asse verticale che sostiene le altre competenze e l'abbiamo definita così la capacità di accogliere la propria e altrui mortalità in uno specifico ediosincratico orizzonte di senso cioè noi pensiamo che la competenza cognitiva acquisita nei training, nei corsi e la competenza emotiva che ci permette di stare nella finestra di tolleranza o come siamo abituati a dire in psicoterapia a gestire il contro-transfert sia proattivo sia reattivo debba essere sostenuta dalla competenza esistenziale perché se noi stessi non abbiamo fatto un percorso di senso rispetto alla mortalità penso che molto difficilmente possiamo sostenere il percorso degli altri o la ricerca di senso degli altri e dei nostri pazienti quindi in questo voglio anche sottolineare velocemente una cosa che quando si parla di empatia che è una delle competenze centrali che viene sempre richiamata in quest'ambito la competenza, l'empatia a nostro modo di vedere ha una componente cognitiva ha una componente emotiva e ha una componente esistenziale perché cognitivamente devo avere un timing una capacità di cogliere una serie di cose per cogliere lo stato emotivo dell'altro emotivamente devo essere capace di sintonizzarmi con l'altro ma esistenzialmente se io non ho una prospettiva di senso rispetto alla mortalità farò dei rispecchiamenti che ho chiamato depressogeni e non optativi o proattivi perché io stesso non vedo un senso nella sofferenza ci sono molti studi che hanno esaminato la death competence percepita dagli operatori e ci sono molti strumenti anche per rilevarla a noi piaceva presentarvi velocemente una checklist che hanno sviluppato questi autori noi l'abbiamo un po' ristrutturata da 10 domande a 9 un po' rimessa in piedi perché pensiamo che potrebbe essere uno strumento utile per automonitorare il livello di death competence cioè farsi delle domande e poi utilizzare magari queste domande in un lavoro di equip che lavora costantemente in questo settore qui ci sono ad esempio tre di queste 10 o 9 domande a seconda delle liste per esempio una è quanto ti ritieni capace di gestire ciò che è la prospettiva della tua morte suscita in te e questo tocca la competenza emotiva ed esistenziale anche se queste sono semplificazioni perché queste sono dimensioni quindi sono toccate sempre le abbiamo trasformate in categorie quindi è chiaro semplificando un altro esempio è quando i pazienti presentano problemi di perdita e lutto sei in grado di guidare un'appropriata discussione della loro esperienza dei loro sentimenti e qua bisogna intendersi ovviamente che cos'è un'appropriata discussione appropriata secondo dei parametri cognitivi cioè aderente agli obiettivi adeguata nel livello di empatia e di supporto adeguata dal punto di vista dell'orizzonte di senso un altro esempio nel lavorare con i pazienti che stanno morendo o sono in lutto sei in grado di empatizzare con loro e regolare le emozioni che sono illicitate in te dalla loro esperienza di perdita questo chiama soprattutto la competenza cognitiva e quella emotiva cioè la capacità di stare nella finestra di tolleranza questo è solo un esempio una domanda rivolta a sé per ascoltarsi su questo e poi eventualmente condividerlo con le persone che lavorano in quest'ambito adesso so che ho ancora circa 5 minuti e 30 secondi ma ne utilizzerò di meno e no questo diciamo la mia parte della presentazione riguarda un aspetto più pratico quindi proviamo a metterci nei panni di un operatore che non sia però lo psicologo quindi o del medico o dell'infermiere abbiamo tenuto conto di queste due figure sapendo che comunque nell'ospice o negli ospedali ci sono molte più figure e facciamo riferimento a quelle che sono o almeno abbiamo scelto di fare riferimento a quelle che sono le competenze per esempio stabilite dalla CCP per quanto riguarda l'infermiere e il medico e quindi partiamo dal presupposto che c'è una competenza cognitiva cioè saper valutare fare un'analisi della domanda una competenza emotiva e quindi comprendere i bisogni propri ma anche dell'altro sia affettivi che emotivi sia nel paziente che nei confronti del caregiver e poi una competenza esistenziale questa nel core curriculum non è espressa poi noi abbiamo voluto comunque integrarla e quindi è valutare le risorse interne e poi anche la capacità di sostenere la relazione con l'altro e quindi siccome l'intervento nostro che ci è stato suggerito era la promozione e il sostegno in maniera un po' ossessiva mi sono mosso a creare una tabella e quindi la formazione dell'aspetto cognitivo della debt competent la promozione quale può essere una formazione cioè cominciare a fare dei corsi che sicuramente si parla di empatia però almeno si spiega che cos'è e poi lavorare sull'empatia cioè quindi interrogare o promuovere role playing o aspetti dove la persona possa sperimentare o almeno conoscere la propria finestra di tolleranza e poi la parte esistenziale una competenza che secondo noi nello schema diciamo è l'impalcatura portante della struttura cioè promuovere una ricerca di senso ora questi aspetti promossi come possono essere sostenuti la formazione ci ha risultato abbastanza facile siamo anche qui cioè una formazione continua la parte emotiva ci siamo richiamati un po' all'aspetto emergenziale cioè dei briefing e dei fusing sono importanti perché riteniamo che lasciare la possibilità di esplorare la parte emotiva e creare anche dei contenitori apposta possano essere veramente un fattore una risorsa per la death competence mentre per la parte esistenziale anche solamente dare la possibilità di nominare che esiste una ricerca di senso dare la possibilità a qualsiasi operatore di cominciare a dirlo ad alta voce a mettersi in gioco a riflettere sul suo concetto per esempio di morte piuttosto che dire solamente quali sono i criteri di una buona morte per l'altro e quindi sempre stando nei tempi velocemente questa è la parte che voi vedete del medico e dell'infermiere in blu e in quasi rosa quello che è riportato nel core curriculum quindi non abbiamo fatto altro che copiare e incollare quelle competenze dove paradossalmente non è mai scritto debt competence o debt education nel core curriculum però riteniamo che queste caratteristiche facciano proprio parte di questo aspetto e abbiamo voluto integrare con la parte esistenziale cioè sapere attribuire un significato agli eventi che l'operatore si deve trovare a sostenere e poi collocarsi e collocare il proprio orizzonte di senso quando c'è un confronto con la morte e questo ci risulta veramente importante l'ultima slide non lo leggeremo tutto è un caso clinico però per farvi vedere solamente quanto solamente nella descrizione di un caso in poche righe queste tre quattro dimensioni si incrociano tra di loro non sono separate se un operatore si trova a dover sostenere diciamo la parte del fine vita di una donna di 37 anni che non sa che cos'ha pensa di poter stare meglio i familiari che non vogliono comunicare quanto sta avvenendo una rete sociale di amici che tende a tenere fuori gli operatori che vorrebbero fare il loro lavoro e li ostacola piuttosto che favorire un processo comunicativo tutto questo comporta e necessita che l'operatore abbia una sua competenza nel nel gestire un aspetto cognitivo emotivo ed esistenziale e con questo abbiamo concluso grazie grazie